Ritrovare Questo luogo, ora un po' utilizzato, un po' trascurato, che però ci ricorda invece di una vita molto intensa. Potremmo dire un po' come le radici di ciascuno di voi. Le radici che non si vedono sono nascoste ma che ci tengono in piedi. Siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre perché il nostro amore diceva il sigillo di consacrazione. Consapevoli della nostra decisione siamo disposti con la grazia di Dio ad amarci e sostenerci in un lato per tutti i giorni della vita. Consapevoli della nostra decisione Consapevoli della nostra decisione Sine Grazie.